Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web List del Consiglio regionale della Basilicata. Il giorno del ricordo, occasione di riflessione. Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Cicala, nel sottolineare che solo comprendendo il passato possiamo costruire un futuro migliore, ha ricordato quella triste pagina della nostra storia riguardante le foibe e l'esodo Giuliano Dalmata. Ricordare, ha detto, è un dovere morale e onorare la memoria di donne e uomini innocenti significa condannare ogni forma di violenza e intolleranza e riaffermare i principi di libertà e democrazia che sono alla base della nostra Costituzione. Ricordare è responsabilità collettiva e testimonianza senza tempo, a cui affidarsi in difesa dei diritti di tutti. La memoria, tuttavia, non è solo diritto, ma anche dovere di comunità. Lo ha detto la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità per Retti, in occasione della mostra itinerante, tra memoria e ricordo, voci del passato, eco nel presente, che ha l'obiettivo di sciogliere le maglie della memoria per accogliere, partendo dagli atroci eventi dell'olocausto e passando dagli orrori delle foibe, tutte le vittime prevaricate nella propria libertà, aprendo un mino che arriva ad oggi e continua oltre. L'agricoltura è uno dei settori strategici per uno sviluppo compatibile con le esigenze della natura e dell'uomo all'interno del nostro pianeta e colonna portante per uno sviluppo sostenibile per il benessere a lungo termine di tutte le nostre comunità. L'idea espressa dall'Europa, che considera l'agricoltura un problema per l'ambiente, è folle. Lo ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia IV, secondo il quale gli errori che l'Europa sta muovendo possono essere corretti e, grazie al dialogo costante con il Ministero, si possa fare la differenza in questo momento di crisi. In occasione della giornata di sensibilizzazione sugli sprechi alimentari sono intervenuti i consiglieri regionali di Italia Viva, Polese e Braia. Evitare lo spreco di cibo, hanno affermato, è un dovere di ciascuno di noi per un mondo più sostenibile ed equo. In Basilicata, sottolineano i consiglieri, grazie alla legge regionale sul contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo delle eccedenze alimentari e non, all'aiuto dei volontari di magazzini sociali e all'impegno delle associazioni di tutta la regione, stiamo raggiungendo risultati straordinari. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Perrino, interviene in merito alla denuncia del Comitato Genitori Bambini Speciali, che chiede il ripristino delle terapie riabilitative per i propri figli, sospese per problemi burocratici. Una vicenda dice che tocca da vicino anche i lavoratori del centro RAM, che vedono messe in discussione la loro continuità e garanzia lavorativa. Nell'annunciare la presentazione di una interrogazione, Perrino si dice convinto che le politiche del centrodestra Ducano continuano a rivelarsi fallimentari su tutti i settori. E' tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per la prossima edizione.